Benvenuti o bentornati in questo nuovo video della Aircraft Anche se bentornati non ha senso perché è il primo episodio Qui con me oggi ci sarà un simpaticone amico qui che si chiama... come si chiama? Si chiamo Walti o XXIke XXIke o G-R-Ike O altre cose Il mio nome è complesso Si basta O imbecille Anche Ti ho dato prima i pugni Tipo 5 minuti fa Aiuto Stai chiedendo Faccio un paio di premesse Perché si Prima che iniziamo andiamo a fare le cose Esatto Ah adesso vedo robe Prima cosa Bene Figo Sì Prima cosa Per chi non lo conosca Anche se mi sembra difficile perché questo modback sta esplodendo Sta diventando famosissimo Tipo ho visto che da ottobre Su Cioè da ottobre Aveva tipo Ottobre dell'anno scorso Aveva un milione e mezzo di Di Perso Di download Che era già un sacco Adesso ne ha tipo 8 milioni Quindi sta salendo Quindi sta salendo Quindi questo è un modback che è difficile Ha il focus nel rendere il gioco intanto più difficile Più immersivo e con degli elementi che lo possano correlare in qualche modo alla vita reale Infatti RL sta per real life E il fatto che sia più complicato tirare giù gli alberi Ah oh come on Ecco Il fatto che ci siano sti merdi In pratica il modback si basa su mettiamo cose per rendere il gioco più difficile specialmente per uccidere a caso Già proprio come succede nella vita reale Esatto perché nella vita reale ci sarà un uvaraptor qui Ma ce ne stanno due Ah vaffanculo scappiamo Si scappiamo in acqua No di là no perché quegli appariti picchiano Si è vero Ho provato in single player un attimo Qui c'è della gravel La gravel è molto utile specialmente all'inizio La gravel è molto utile esatto Però non prendiamola tanto è molto com... Ma siamo seri Ma ce ne stanno due di fianco? Di cosi... Fighi? Si ah cazzo Oh E' bello In fin non ci possiamo mettere lì perché vi affari probabilmente ci aprono il culo Esatto Ma fanculo YouTube Tanto non possiamo essere monetizzati Non abbiamo le pubblicità Esatto Non puoi toglierci soldi se già non abbiamo soldi Ecco qui infatti il lag Posso anche vestire No lo faccio perché alcuna gente si trigger Esatto E poi ci dicono e ci strikeano il canale E poi ci chiudono e poi Dove stai tu? Ah ok sei là Io provo Qui c'è già un po' di legno Che non so perché c'è già del legno Che culo Però c'è già del legno Ma allora Io intanto rompo un po' di blocchi Ah giusto L'altra premessa era E il fatto che Come diceva anche Mattis prima Questo mondo è molto laggoso E probabilmente infatti ne faremo un altro Che uno dovrebbe raggare di meno Due non dovremmo aspettare Perché adesso per ora Stiamo usando Aternos Che se non si pede Che è un coso di hosting Che può Esatto Che ossa gratuitamente Ma bisogna fare una lunghissima Conto soprattutto a queste ore della sera Perché tipo in America invece è giorno Allora lo apre un sacco Lo usa un sacco di gente Esatto Non si può aspettare tipo Un'ora e mezza ogni volta in coda Per cui dovremmo aprire un server Invece Intanto io ti ho perso Un server più privato Allora sono a quel affarone di mossi Al quale eri tu prima Ah quello Ok allora arrivo Ti vedo ti vedo Però c'ho fame quindi non Cazzo un altro Uvaraptor Quindi sì insomma Probabilmente resetteremo anche il mondo Cioè Sì sì Useremo un nuovo mondo Per cui sì Esatto Non aspettatevi per questo mondo Non aspettatevi che questo mondo duri Ciao allora L'ho trovata lì la cosa Eh anch'io ne ho trovata 12 Oh anch'io 12 3 stick Però senza un po' di gravel Questa roba è tutta inutile Ma mostra esatto Mostra la storiella di come Allora Questa storiella è molto bella Andiamo a prendere il gravel Che sarà Merda Un affare che mi vuole ammazzare Ah quello è brutto Quello è brutto Scappa qui dentro Vabbè chi se ne frega Sprechiamo il legno Non fare lo snitch Eh invece Vabbè tanto che per Un sacco di volto Guarda Melone Prendo sto melone qua Perché Allora Melone è quello di Di baby face O baby head Ma vai a quel paese Va No No però Sì però Mi sa che non puoi romperlo Con le mani O sta laggando tanto Ma non credo Allora Qui c'è della gravel Perfetto Ok Ok a parte questo Che ce lo si poteva aspettare Mi sa che non riusciremo a fare un grand game insieme E perché non mi stai droppando la gravel Temo di no Fino a che non abbiamo un letto E cose del genere Quindi fino a quel momento Mi sa che dovremmo usare il tp Ecco Eh già Mi sta iniziando a droppare qualcosina Ah innanzitutto per prendere le cose O si preme col destro O si shifta sopra l'oggetto E a quel punto si prende Esatto Quindi se ci vedete Shiftare in altre cose che giocheremo Perché l'aircraft ci ha traumatizzati È molto Come vedete lagga molto Due giorni fa Sì lagga Però è un problema del server Non è nostro Perché il gioco scorre benissimo Dopo un po' il Il server si stava stabilizzando Ma ero da solo Prima per cui Sicuramente in due sarà Certamente meno stabile Prima era giocabile Esatto Ma quando ero da solo Dico Sì perché ho fatto un po' di test Prima da solo Sì anche io ho fatto dei test Ma quando ero da un test Brutto 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 Vai via scherzo Comunque dopo ti ritipo Intanto Sì e ci tipiamo giusto Perché così abbiamo del content Da fare assieme in teoria Caricando gli stessi chunk Lagga anche meno Teoricamente Crediamoli Allora Vi faccio vedere Allora innanzitutto La gravel da sola È mezza inutile Bisogna scavarla per avere la flint E quando si ha la flint Si spacca sopra un blocco di pietra O cobblestone comunque Col tasto destro E si fanno Right cliccando Naturalmente Si fanno le flint shard Ne da Don 2 per selce Per flint E con queste ci puoi fare Tipo Un knife Con il knife Ci puoi tipo Quindi un cortellino di flint Si Ci rompi le L'erba E il popolo flint Che lo voleva Ma gliel'abbiamo rubato Eh Il problema è che non mi sta droppando le cose In teoria dovrebbe droppare delle plant five Ma non è al primo tentativo Cioè non l'ho fatto No si ma Ecco appunto Ora me li ha spawnate Cioè me li ha droppate Ecco E aspetta che Troppo 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 Aspetta che cos'è sta roba? Allora oppo entrambi così Per le balle, vero giuggiolino? Ti vogliamo bene, giuggiolino Allora, queste tre, con tre plant fiber messe così o anche così, tipo Danno le plant string, io ne faccio tre perché sono belle Poi se metti, è praticamente il crafting del knife Solamente che la flint shard, invece di essere sopra il bastone, deve essere messa in diagonale E al posto della flint shard ci metti la plant string In teoria dovrebbe darti l'accetta Sì, allora può aiutare anche le string normali Sì, sì, però, queste però, ecco, infatti vedete, flint hatchet Solo che per ora è... Allora, questi alberi qua di jungle però non hanno la tricapitator, giusto? Ti partirei da me perché c'è una struttura tipo castello giapponese e... Oh, allora tippami, tippami Fai tippi, dark giant, hike Ah, giusto, aspetta, lo faccio, lo faccio Tippami che mi ha anche esploso un creeper, c'ho anche le jungle pot Ok, tippo, aspetta Aspetta, però prima vuoi vedere se c'è la tricapitator o è tipo la dynamic 3 No, non è, è la dynamic, è la dynamic Flash tp Ok No, aspetta Ah, ma sono dynamic 3 e mi sembravano normali Eh, lo so, lo so, quelli non lo sembrano perché sono molto grandi Cazzo Grande Mi sembrava già fatto Eh, lo so, lo so, ma è anche il lag Vabbè, tippami che tanto sono spawnato qui in mezzo Ecco, forse però la mod che carica i junkie in questo modo qui fa laggare tanto Mi hai tippato da te, no? Ah, sì, ora sì Ecco No, no, cioè lo so perché è così Allora, cioè, per fare molto figo Ok Oh, sì, molto figo E poi, e niente, si ricomincia Ragazzi, aspettatevi questa cosa per un po' perché Esatto, almeno finché non abbiamo le robe in ferro Non abbiamo uno spawn fisso Sì, o anche, finché Vado innanzitutto a vedere la waystone Anche se Cerchi Waystone come si crafta Merda Ci serve la nether stare a col culo Eh, no, figurati, figurati C'è uno scheletro che per ora è molto fuori dalla nostra portata Sì, uno scheletro fuori dalla nostra portata Già Ci sta però come castello, mi ricorda Voglio far vedere un bellissimo oggetto Oddio, no Allora, io ho già 36 sassi Per cui non credo ce ne servano Qui c'è un creeper E me ne scappa Il problema è che sono entrato C'è un bellissimo sistema di porte automatiche Il problema è che dentro ci sono due baby zombie Oh, no Birch Birch, birch La birch La birch Allora, questo è un posto fantastico in cui vivere Sinceramente io ci vivrei Il problema è che non c'è una cavolo di luce E porca puttana Non si vede nulla con sti cosi Allora Vieni ad aiutarmi Ah no, credo che stai combattendo Allora Sono dentro, ho bloccato tutto per adesso Che bella situazione Sono incastrato in un potuto blocco con dei baby zombie che mi stanno Che mi vogliono picchiare E sono esploso Nice 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 Però devo uscire perché devo riprendere C'era del legno Vabbè ce ne ho anche un qui un pochino di legno Però aspettiamo il giorno per quello al massimo Io intanto cerco di fare fuori laggosamente questo zombie Mi sono tipato da te Scusa se ti ho preso a pugni No, aia Ma vabbè Porca Oh madonna dio Eh invece no Io sto morendo di sete Ah io mi ha preso No, io, io Ah ok Vabbè però lo stiamo gankando male Dai che è morto C'ha due di vita sto finito E questo personaggio Ecco, perfetto In teoria Oh ecco Ora si sta attivando Ma vedete che laggano solo i mob Perché le cose di redstone funzionano benissimo Allora ci sono i miei drop Solo che ci sono i miei zombie E allora guardo su se c'è del lupo E perché no? Merda io sto morindo Madonna ma è pieno di cose si crea Oddio cos'è? Raw beef Sì, quando ho sete La cosa ti si appanna tutto Allora aspetta che esco che devo assolutamente be- Ah cazzo Ho 35 pietre Un sacco di roba Eh Allora io mi metto a sto punto a fare A farmare la gravel Vabbè Perfetto Ritippami Eh sì sì Fai dark Cioè da me a te Non da te a me Perché Sì Non so Lo so Allora Allora Vado a vedere io il piano di sopra Esploriamo un po' Non c'è della luce purtroppo Cioè c'è però non c'è la leva Ah non c'è la leva invece Buggato Allora Cobblestone da qualche parte ce n'è Non ce n'è Cazzo proprio No no me ne sono tutta mezza vuota Sì li ho chiusi per evitare che entri Oh letti 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 perfetto Nice Vieni a dormire Vieni a dormire Già Ma è tutto vuoto? Non c'è neanche un mondo? Sì Meglio Meglio Sì è tutto vuoto Meglio guarda Allora Possiamo ridarla come vogliamo Che culo Che culo che abbiamo trovato una casa Beh You may not dress now The bed is too far away Mi fa pensare no al meme Ah Yes The floor is made out of floor here Ok Vai Il problema è che è un po' freddo Accendi le lampade In teoria dovrebbe essere Ah no c'è il daylight sensor E' molto well done come cosa no? Non puoi dormire adesso Il letto è troppo lontano Well done Oh Il letto Cioè il letto Il tetto Fa cagare Fa cagare Però è un tetto Allora ma sai che in realtà Potremmo switchare i daylight sensor E accendere le luci? Sì ma tanto a questo momento Però non sarebbero accesi poi di notte Esatto Qui mancano dei Qualcosa Allora Si può fare Intanto teniamoci spulati Che abbiamo beccato Sta roba Tipo al secondo spawn Quando io sono morto Alla fine Era a blessing in disguise Il fatto che io sia morto C'è qualcosa? No Vabbè Sì qui ci si fa un sacco di robe Tipo qui una bella cucina Qui l'ingresso nella L'angolino L'angolino di noi sappiamo cosa Giusto certo Quello lo Lo riveleremo dopo La tradizione dell'angolino Esatto Però chi ci segue dalle live È vero Pirata O questa gente qua O anche RG Se ci sta Se vedrà sto video Eh beh Sì Nel caso Allora Ma aspetta Se vuoi vedere live Sta come funziona La storia dell'angolino Eh sì Andiamo a prendere Ah aspetta Dobbiamo prendere Deco Allora io vado Oh cazzo Me ne accorgo adesso Che ci sono i five spirit Tipo qualcosa del genere Merda Dobbiamo spegnere i fuochi Eh yes Cazzo hai ragione Fanculo l'illuminazione Esatto Ci mettiamo delle Delle lampade Poi quando saremo ricchi Qualcosa non importa Sì per Prendo questo Naturalmente Sta anche Si sta stabilizzando Mi sembra Almeno per raccogliere I cose Si sta stabilizzando Anche i mob Si muovono più Più meglio Assai Minchia Più meglio Assai davvero Allora Io sto prendendo Danno da un five spirit Ma finchè non ci ammazzano Ok ho spento Tutti i fuochi Bene 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 Si despownano Oh vabbè insomma Si despownano al massimo Merda Sto crepando di sete Eh Porca miseria Non abbiamo niente Dovremmo mettere un punto In cui cristiamo Una Una Sorgente d'acqua Allora Io Troppo giù i miei oggetti Tac Così al massimo se crepo Non Non si Arrivano in giro Oh Corri Scappa C'è il Nemesis C'è la sete Un clay bucket Mi sa che si può fare il clay bucket Ah Allora io provo ad allontanare sti cazzo Di fare sti cazzo Va bene io intanto provo a prendere della clay Se la trovo Sì c'è Spirito del fuoco Maronna Spirito del fuoco E' vero che c'è della clay qua Magari una spada Un baby zombie Yes Io sono in acqua Quindi non posso morire Se non per annegamento Ah e bevo intanto Sì l'acqua è sporca Perché deve essere Purificata Per quanto il baby zombie In uno 14 Allora Aspetta Vediamo se c'è Non c'è una crafting table da nessuna parte Cazzo Sì No Stavo Voglio cercare di spaccare queste Pressure plate per entrare Perché così facendo possono entrare tutti Per uscire le teniamo Per entrare magari mettiamo una leva Un bottone Eh sì meglio meglio Niente mi sa che devo farmi Comunque C'è la rosa e tutto Sì fai pure ma Eh perché non abbiamo una crafting Vabbè ma Ma la crafting rubiamo questo pezzo di berce qua che ho messo io prima Eh ma non lo puoi rompere Cazzo hai ragione E non puoi renderlo plank neanche E aiuto da poi Allora Aspetta Utilizzi Ecco cosa Clay brick L'utilizzo del clay brick Ma allora cos'è Ceramic bucket Recipe Clay bucket Recipe Non c'è alcuna recipe E allora sei proprio Un figlio di Eh sì insomma Si è capito Un figlio di Anna Tup Esas Allora In realtà ne bastano tre Di Plant fiber Ma al massimo le butto dopo Esatto Allora Io in tutto questo non so che fare Quindi uscirò Anzi Mi piacciono anche Prendo questa gravel Non lo so Non mi sembrano tanto aggressivi Sarà solo che Sto avendo culo ma No è che Probabilmente lagga Cioè i drop Non laggano più Infatti ora sto spaccando la gravel E non sta più Cioè non mi spawnano dopo dieci ore Mi spawnano quasi subito Beh vabbè Bene Allora Intanto ho fatto una flint hatchet Trasformo Tutto questo in In Sì In log Io sto prendendo altre cose Hai per caso Della stone Che usiamo Mettiamo da qualche parte Perché qui è tutto legno Così possiamo Cosare le flint In flint Shard Instant Tipo Ma no Tanto Non credo che lo rifaremo Ancora a lungo Sai sto Se no è Sempre per avere Cioè perché comunque Può sempre far comodo Che se non sbaglio Lo sai che anche con l'ossidiana Si può fare Ma con i diamanti L'ossidiana e i diamanti Ti dà le shard Se non sbaglio Ah possibile Credo Cioè l'ho visto in un altro mod Perché Però mi sembrava che Cioè c'era sempre la stessa mod Che fa le flint Che non mi ricordo se era la Non mi ricordo quale è Allora Non so se sto laggando cosa Ma non riesco a fare le Le Aspetta Pro No io ti vedo bene Io ti vedo bene Prova a dare a me No perché è strano Anche a me a volte non fa Anche in single player Ok Strano Ah no Forse ho capito Eh Faffanculo No non deve Si però Vabbè Dammi da me Non me l'ho capito Si vabbè Quello la poi lo ripiattiamo Naturalmente Si si Tipo levo questo No Ripiattiamo Naturalmente Si Giuro Giuro Io vado a prendere Delle pietre Proprio quelle Dopo ti voglio far vedere Un giochione C'è un Fire Spirit Rimasto Solo uno Merda Ho trasformato Un altro Blocko in Eh questa è una cosa brutta Dovremmo Fare tipo un coso di pietra O Insomma Non che si butta Vabbè Senti ho fatto Un sacco di buchi Vabbè dai Chi se ne frega Dopo cioppiamo un albero E Faffanbrodo Prendo altra Gravel Perché comunque è buono Oppure no Può fare comodo La prendo No anzi no Ne abbiamo già un po' Nella cesta Abbiamo del cibo No Naturalmente Allora No però Li vedo qualcosa Che potrebbe interessarci Hai presente il Il castello in cui dentro Forse c'è del cibo Vado a vedere In acqua eh Allora Io faccio Oh ma c'è una casa qua Ma di nuovo Ma siamo muscolati Vabbè che Qui le cose spawnano Però mi sa che Quella dei Vindicator Mi sa che Quella dei Vindicator Evitiamola Credo eh Non credo Eh no No mi sa che È un villaggio Ce ne sono più di una È un villaggio Ci sono gli Aegis Sì ci sono i villager Bene 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 Uh Cibo Letto giallo Ma chi se ne frega A me non piace Troppo il letto giallo Allora Mangio qui una pie Ecco Allora Sì eh Slab e scalini Qui sono molto brutti Perché Ti ci puoi sedere Solo che anche Quando non vuoi Non vuoi sederti Ti ci siedi Eh appunto Vai Merda Già ferro Già ferro No si ma in realtà Le cose si trovano Straveloce Il problema è che devi Eh c'è questa cosa qua C'è farming Agility Defense Building Attack Gathering Mining Magic Queste sono le vere Come dire Non so come non essere Volgare Diciamo Le difficoltà Ecco Le pigne Le pigne Che ti fanno ragionare Sto tenendo Degli ottimi Rank Sui miei oggetti Allora Il mio flint knife E vabbè Quello che se ne frega Clumsy Meno Meno 5 di x speed E meno 5 attack speed Poi L'accetta Broken Meno 15 attack damage Me Vediamo questo librario Il piccone Clumsy Viper che fa Della stone sword Che fa Ah ok Meno 5 di attack speed E meno 5 di attack damage Ma che fortuna Certo che lei signor villager È molto stupido Non fa altro che chiudere Una porta tutto il giorno Ma va Ma se picchio un coso Gli Aegis Mi picchiano Si E allora Ho fatto una minchiata Ho fatto una minchiata Eh run Scappa Perché Esatto Vabbè Però ho preso Un bel po' di cibo Tanto il villaggio È qua dietro Chi se ne frega Torno Prendo un po' di gravele Poi ci sono E lì c'è un albero Molto figo Guardate quanto è bella La dynamics Cioè Se Se C'ho un ramo Guardate che fa il ramo Cioè è bellissimo Per chi non la conoscete È molto bella Prendo la cetta In flint Guarda Cioè è Fantastico Certo non ti da niente Però Ah ma c'è un canyon Qua dietro Sì Una cosa brutta Della Della E' come le strutture Si generino Tipo Con un cubone intorno Esatto Oh ciao Eccoci Allora io ho una spada E un Perfetto Un cubone intrami in pietro Ah io mi faccio Qualcosina di meglio Di una Cazzo Io credo veni al ignore Ma mi sa che ammazzo Il L'affare di fuoco È vero che hai Un Uno stick Sì sì Ce ne sono in giro Ah sì è vero Che tanto basta Che rompi le foglie Ecco questa Ecco Ho trovato uno Per fare una leva Adesso Adesso mi dice Di essere A livello Qualcosa per me Non credo Esatto Ok Adesso funziona A leve Ah ok Cioè c'è Sì sì apri Però c'è solamente Esterna la leva E poi te Apri e chiudi Cioè tipo È easy Te l'ho chiusa a te Allora Facciamo un po' di queste È vero che abbiamo Perfetto Guarda Member charge Cioè posso fare tipo Gli haighi E lanciarteli addosso E darti Non farlo Perché adesso Io mi faccio Una cosa molto figa Posso farti Vedere Una Un oggetto Molto divertente Adesso sto per Craftare una cosa Molto potente Ti faccio vedere Un oggetto Molto divertente Che ho scoperto Prima Cosa diamine Vabbè Non ci sono Delle cose Ah vabbè Comunque Guarda qui Ah minchia Ci sta La broadfurt Io ti faccio Guardami 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 Quanta HP hai Oh mi manca Un cuore e mezzo Allora Quindi otto e mezzo Ma poi Lo puoi anche Vedere Quanta vita Ho Sì Sì Vabbè Infatti Lo chiedevo Ma giusto Figurato Così Allora Non domandare Toglio Guarda Questo Fra Fra ma che Diamine hai Fatto Allora Intanto Ti ho ucciso Vabbè Intanto Ti ho ucciso E questo Era abbastanza Chiaro E vabbè Tanto Hai Respon qua Ti lascio La roba Nella cesta Ma potevi anche non shiftare E basta Ah Posso provare un attimo La mia invece No 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 Aspetta Voglio farti vedere un'altra cosa Non era quello che intendevo fare Ammazzarti E basta Non volevo fare Venirti di cattivere Guarda guarda Ammazzarti Volevo farti vedere Speriamo che non credi Questo Oh Nausea È bellissimo Perché Ha Nausea Sblo Che tipo Quando ti colpisce Sì ma contro i nemici Non è molto Comunque Infatti È inutile Ahia Mi hai rotto le prassi Eh perché È uno storm Vabbè Dai Mi hai rotto Qualcos'altro Prima La vita ovviamente Io ti posso lanciare Le Questi affari qua Le Ember charge Push Vabbè Comunque Abbiamo una cetta E allora Usiamola su questo No Cosa? Ah Giustamente Allora 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 Fai conto che abbiamo sprecato due log di legno solo per questo affare qui che ti volevo fare e darti in house Lol Ma come fa a shottare scusami un attimo? No ti ho shottato perché però non ti avevi poca HP alla testa Ah si Ah è vero che qui c'è la roba brutta Eh si Premi H comunque se vuoi aprire Sì sì no lo so sono full coso Sì e non me ne frega niente del tutorial Giusto Vieni un secondo qui Giusto per dimostrarti quanto ci sono serviti quei due log di legno Dove sei? Ecco sì Iaiaiit No Come on Lol Iaiaiit È bellissima Aspetta lo faccio vedere con un pezzettino di pane Allora là sopra c'è un Un altro Fire Spirit lì Guardate quanto cazzo le tira lontano le cose E al secondo Vieni qui Ehm Bravo Tanto la Gritward che a Ricci Eh vabbè dai Larry si pianta No un Reaper Scusa se ti prendo Fai attenzione che c'ha il 100% di Di Oh un'altra Quel cazzo è questa qui Spectral Bolt Charge Oh ma abbiamo dell'ossidiana subito Ma sei serio? Eh si quegli affari di troppo è un'ossidiana intanto La sete è davvero una dottura di palle enorme Sì specialmente perché scende un sacco Iaiaiit E' un po' inutile Vabbè no volevo far fuori un hook Guardate che bella la mod delle stagioni E' autunno teoricamente in questa stagione Questa è davvero bella Questa qui delle stagioni Esatto Allora cioppo quest'albero Non stare lì Stai in diagonale Ma no fra tanto lo fa sempre dalla parte opposta che lo taglia Cioè almeno sempre ha fatto Quasi sempre E vabbè se vedo che cade verso di me scappo Mmm attento attento Te lo consiglio Comunque Trump o è notte quindi è meglio dormire Già Trump o è notte No non devi ripremere la leva basta Devi ripremere la leva E invece no guarda 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 Fra ho premuto io la leva Visto Sono molto deluso Perfetto si è rotta la cosa Però Cazzo Però che posso romper la mano? Sì Molto piano ma E io ho anche mai Infatti in due per qualche ragione Perché ci avrai le braccia spezzate You have a point Ho le braccia Very much so spezzate Vabbè dormiamo E ti si riparano Esatto Crazy Dai a letto Crazy Vai a letto Crazy vai a letto E a proposito Anche Pietro dovrebbe andare a letto Ma è Anna Zzzzai Aspetta che vengo a letto Va anch'io Yeah No Abbiamo i letti a un metro di distanza Oh no State difesi dal Virus Guarda tre blocchi Porca miseria Minchia Poi ci facciamo le nostre stanze Ovviamente Cioè che poi Una stanza divisa in due Con due letti separati Però mi chiedo Ci sono dei bei letti Tipo figli Se cerco Bed Temo di no No Eh sì però Non lo scrivo anche male Mannaggia ho Proprio arrabbiato Non ci sono i letti Cioè ci sono Quelli colorati Ma perché è la 1.12 Già Dove hai trovato Questo cibo cotto È nel village Ma l'avevo tolto Questo Tomadio Cioè l'avevo tolto Credo Non mi ricordo Esattamente Però Che brutto Allora Nanananananana Tanto chi se ne frega Allora Vediamo Cosa bisognerebbe fare Pietra ci serve Tanta pietra E ferro Ma in realtà no Ferro ce l'abbiamo Però prima dobbiamo Farmare xp Ma cioè Infatti sì La cosa è Ci serve una Mob tower Esatto Lì si trova un sacco Di roba Poi in cima Ci sono anche I blocchi di diamanti Una volta L'ho lasciata Prepotentemente Una Comunque sì Vedete che non Stiamo laggando Noi È proprio il server Che lagga Già Già È un po' Un peccato Infatti Sì Però io adesso Varie volte Vado a prendere Nell'altra pietra No C'è un creeper Perfetto L'ho chiuso fuori Si fa in un altro modo A questo punto Si sale da sopra Si mangia un panino Come colazione Perché questo droga I affari I affari Wow Gli arisaurus Ah i cosi verdi Credo Sì sì Non posso uscire Quindi si passa dal tetto Aspetta io c'ho una brawdsword Perché non la uso Perché sono stupido Comunque sì Si vedeva anche da qua in alto Che c'era il villaggio Dai su Sette Probabilmente Ci potremmo anche Spostare nel villaggio Minchia ma sta casa È fighissima Te l'ho detto Che è fighissima Abbiamo il villaggio Dietro casa Davvero? Sì Cioè te scendi Da una parte della casa Era un'affermazione Davvero Come dire Eh sì Madonna Che vende questo Protection 2 Vabbè Che belli I villaggio Perché stanno Nelle porte E si mettono E passano tutto il tempo Ad un'altra Esatto Madonna Non è il primo che vedo Già Sono un po' pagatini È una cosa diffusa Eh si vede che è la moda del momento In questo villaggio Comunque io volevo prendere le pietre Quindi continuerò per la mia strada di prima Che era questa Oh c'è una fornace gratuita Quello è anche del carbone È vero che te c'hai un piccone Merda Sto proprio facendo come un onsteropiteco Cioè raccolgo le pietre a caso E quello lì non è per fortuna un drago Fra sei proprio un onsteropiteco Eh me lo dicono spesso Fra comunque io ti ho chiesto se ce l'hai Sì o no il piccone Te non mi hai ancora risposto Sei proprio uno snitch Non ti avevo sentito Allora vieni da me Che c'è una fornace gratuita praticamente Ah Con 5 di ferro che mi sono già fregato Vabbè che non lo possiamo usare Il ferro però Cioè intendevo coal Scusami se ho detto ferro Sei proprio uno sciocchino Eh sono proprio uno scioccone Altro che uno sciocchino eh C'è uno stack preciso Adesso andiamo Dai vieni qua a prendere quella fornace Ah l'hai già preso Guarda guarda come sono schillato Fammi vedere le tue schilla Dove sei? Qui Gra Dove sei? Qui Ok ti vedo Eccomi Mi faccia vedere Ma lì c'è una strutturina Oh Era profonda l'acqua Non potevo Lol Sei veramente schillato Voglio vedere qua dentro Mi sa che c'è qualcosa di brutto Però mi serve il tuo piccone Dai infatti ci voglio andare Era proprio dove stavo mirando ad andare Wow Quattro di gunpowder Quanta roba Madonna Minchia E basta? Sì basta Solo quattro di gunpowder Wow Ora però sta iniziando di nuovo a laggare un pochino Infatti non mi ha droppato subito la gravel No Le defiled lands Minchia che figa Ma dove sei? Ah ma io ti vedo frizzato qua Eh non ci sono invece Mi sa che sta laggando tutto È decisamente possibile Ci sono queste bellissime defiled lands Che sono quelle lì In cui Scusa Te l'ho dato tre ore fa Capito E il fatto è che mi ha lagggeccato qua Lol Mi hai fatto proprio un bite of dust Sì Ok Allora io direi che si può anche tornare a casa e terminare la rec per oggi Che ne dici? Ci sta Cobblestone stair Ma sì Futtiamocene Devo segnarmi di non Oh una waystone Devo segnarmi di non raccogliere le cose mentre ho il Vieni qua che c'è una waystone Ruba ruba Magro Magro Fammi segnare di non raccogliere gli oggetti quando hai in mano un blast and fruit Guardando verso il basso Lol Allora Comunque c'è una battle tower qua Vabbè quelle spawnano Vieni qua che c'è una waystone che è ben più importante forse Mi sa che non la posso raccogliere sai Ma io credo proprio adesso Se tipo gli scavo sotto si droppano Ok Provo a vedere qui se con No vabbè lascio stare Allora comunque le defiled lands se non erro fanno tipo la corruption di Terraria Di terraria che restano come zona Uh Comunque sbrigati che qui c'è una way way Ma semplicemente c'è dove 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 sono io in questo momento Vieni dove c'era la fornace Non so dove cazzo fosse Ah porca miseria No 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 anzi si 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 lo so Ok Ma non è divertente che abbiamo un senso dell'orientamento migliore nei videogiochi che non è realtà Si probabilmente hai ragione Oh finalmente Che bella però anche la dynamics tree con le better foie è veramente bella Molto figa Ma è un mod pack Oh ciao ciao Oh ciao Oh ciao è bastardo è fatto bene Si Vedi è la L'ho già segnata ma la distruggiamo e la risegniamo Ho il braccio rotto Dammi il piccone a me allora se vuoi Guarda io te lo dico secondo me non lo puoi rompere con quella Ho questo Oh al massimo perdiamo una cosa che non ci serve Cioè ci servirebbe Però ma chi se ne frega Cioè poi si magari si può In realtà Eh ci sta mettendo un bel po' Già Non mi fa neanche l'effettino In effetti In effetti No 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 Non sembra funzionare No si lascia stare Togliti un attimo devo mettere questo È più carino così Tieni Tu vieni qui Io sono Stai calmo mi sono perso al villaggio Alla sua destra Alla sua destra Dietro di te Sto saltellando Mi vedi? No dietro di te Guarda dietro di te Aspetta Ah ciao ciao Vieni subito qui Che cazzo è quello? Quale? Quello Vedo uno squidio No più avanti Aspetta Il moto schifo Vado a toccare il moto schifo Il moto No non andare a toccare il moto schifo Io non andrei a toccare il moto schifo No 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 Il moto schifo Devo prendere il moto schifo Guarda il moto schifo Va bene Il moto schifo Va bene Comunque seriamente che cazzo è quello? Quell'albero dici? No indovina Intendo questo bellissimo blocco di sabbia Guarda che sabbia Merda Quello si che è bello No questo albero qui Cioè L'avevo visto prima Però mi sa che è solo uno spawn naturale di mob No si si solo che è molto figo Adesso è una chestplate con Ma in cosa? Una chestplate di ferro Eh ma non puoi usarlo Non la possiamo ancora usare Però assolutamente si tiene Questa perché a culi Fingade è un sacco comoda Si d'estate o nel deserto Comunque Ma te dove è cappero? Sei finito? Allora Aspetta Sono vicino al castello Tu vai bene al castello Che io ti Che ci sto arrivare Va bene Castello intendi casa nostra Si? Non il castello quello in acqua Che ce n'è uno anche là Certo certo sono vicino a quella Al nostro castello Bene Guarda quest'albero sembra quello che crea giorno Per scappare da quei dici Cioè sembra un albero Esatto Ok Metto via un po' di roba Abbiamo bisogno di una chest più grande Assolutamente Abbiamo tipo 8000 cesta Nel giro Per la casa Sì 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 Ma sai la palla di Mining Fatigue Che ti diminuisce anche la velocità Con cui ti si recupera Il colpo per Per la spada Eh Quello è brutto Sì Ah io non posso usare lo Cioè posso usare lo scudo Però con la Broadsword Mi Mi Mining Fatigue Sì sì Lo so Lo so Infatti è per quello che Non me la sarei fatta Io Io me la sono fatta Perché tanto per ora Lo scudo Non possiamo manco usarlo Fra Sì che lo possiamo usare No A 4 di difesa Possiamo usare No Quelli più semplici possiamo Te lo dico io Ciao Perfetto Guarda C'è tipo Non so Non so quale scudo Dici Tu forse dici quello vanilla Ma ce n'è uno che vuoi farti Ecco Facciamo l'outro Bene Facciamola Allora Facciamo l'outro Io non ho niente Come puoi mettertela Se non hai Le cose Scusami Muoviti e fai l'outro Ok Ma sì Però magari Cagami Così Mettiamoci così Allora Che cazzo dico adesso Vi ringraziamo Per averci seguito E aver guardato Questo video con noi È stato un piacere E ci vediamo Alla prossima Esatto Ti dispiace se non abbiamo fatto un cazzo Lo troviamo benissimo Esatto Non abbiamo fatto praticamente nulla Esatto Vi ricordiamo di iscrivervi al canale Lasciare like Bla 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 Le solite cose Passate anche da Spreaker Spotify Per il podcast Twitch Bla 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 Insomma Ciao 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 Vaffanculo Levati subito Dalle pade Stronzo di merda Levati Brutto bastardo Non Tira Monci Ciao